Per la consulta il referendum è inamissibile, come comenta? Per noi è una brutta notizia per i cittadini italiani, con questo referendum sulla legge elettorale la Lega voleva dare la possibilità al popolo di esprimersi su un sistema che garantisse maggiore governabilità e soprattutto che chi vince le elezioni governa. Purtroppo l'attuale maggioranza si sta portando verso un sistema completamente opposto, cioè quello dei ribaltoni, del trasformismo e dell'immobilismo dell'azione di governo. Ora cosa fare? Ora si aprirà in commissione una discussione sulla legge elettorale, è chiaro che noi proporremo una legge che è il vecchio mattarellum, quindi una legge che ha già superato i vagli di costituzionalità, dato che l'abbiamo utilizzata per più di dieci anni, è una legge che comunque garantisce un quota proporzionale ma un forte impronta maggioritaria che potrebbe portarci al medesimo risultato. È chiaro che la maggioranza ci ha già detto che le intenzioni loro sono altre, quindi la battaglia si sposta nelle aule parlamentari.